All'inizio del film ho visto il tuo nome ed era scritto grande, grande. Ma se tuo padre fosse ancora vivo sarebbe orgoglioso di te. Sei sicuro? Ma certo. A vent'anni andai a studiare negli Stati Uniti. A trenta sono tornato a Hong Kong. E da allora Atao è sempre stata con me. Guarda un po' che occhi. Carino. Tu non facevi altro che piangere giorno e notte. Ti portavo fuori con questa e smettevi di piangere. Vado in una casa per anziani. Costerà tanto. Sta tranquilla, te la pago io. Te le ho i soldi. Pago io. Stai pensando di sposarti? Ma no! Ti ringrazio di avermi portata a questa prima. Vado in una casa per a questa prima.